Ieri sera c'è stata l'asta del fantacalcio dei fanta youtuber, il fantacalcio più tecnico di tutta youtube italia Intanto trovi il link di tutti i partecipanti qui sotto in descrizione e ti invito a correre a seguirli se ami il fantacalcio e li conosci già tutti Ad ogni modo mi va di ad encarteli, c'erano Carmi Special, Profetta, Federico Vidino Pro Fantacalcio, Workout Sport insieme a Fantatori, Babbo Fantacalcio, Chiuzzo, Fantavirus, Chris il mister del Fanta e Ray Costa Era un'asta del fantacalcio a 10 partecipanti con 300 crediti, modificatore pesante a 6 fasce e imbattibilità del portiere Inoltre abbiamo adottato anche lo switch Prima andati a far vedere la mia squadra e tutte le altre squadre ti consiglio un'app per fare al meglio la tua asta del fantacalcio e cioè Fanta Algoritmo Fanta Algoritmo è un'app fantastica perché durante l'asta ti consiglia chi chiamare, quando chiamarlo e quanto pagarlo Inoltre Fanta Algoritmo durante la stagione ti aiuta indicandoti qual è la migliore formazione da mettere giù per la tua squadra Perché per la tua squadra va proprio a vedere gli indici di iscrivabilità di tutti i giocatori Trovi Fanta Algoritmo, link qui sotto in descrizione, se utilizzerai il codice sconto FantaGOL20 risparmierai il 20% su qualsiasi abbonamento tu decisi di fare Oh, guarda che però c'è anche la versione free, quindi vai qui sotto e vai su Fanta Algoritmo Partiamo subito con la mia squadra, io ho preso Mereta 33, Gollineo 1, Martinez A3 Per un totale circa del 12% del budget speso per la porta Leggiamente troppo ma volevo la porta top, visto anche il modificatore di difesa pesante In difesa ho preso Poscia 16, Di Marco 27, Dunfri 16, Quadrado 8, Bellanova 5 Dopo ho deciso di risparmiare, quindi Maria 2, Marchizza 1, D'Ambrosio 1 Ho speso circa il 24% del budget in difesa perché volevo una difesa buona sia da mod ma che potesse anche darmi dei bonus Vero è che ho fatto l'accoppiata dell'Inter in difesa ma ad ogni modo giocano sulle due fasce E quando l'Inter sarà contro una piccola posso metterli entrambi e sperare in doppio bonus dalla difesa Veniamo al centrocampo, prendo Orsolini a 25, Reinders a 14, Strefez a 25 Arrivato qui avevo composto un gran centrocampo secondo me fin qua Visto che io pensavo di schierare un 4-3-3 o un 4-4-2 a seconda delle occasioni Mi sono fermato, quindi ho voluto fare colpi che costassero poco Prendo Lobotka a 3, secondo me a 3 è ottimo Pasalic a 8, Verun 2, Marin 2 e Renato Sanchez a 1 A centrocampo spendo circa il 29% del budget Forse un po' di più di quello che avrei dovuto Però ci siamo ritrovati nella condizione per cui Vedevo gente che stava tenendo i crediti per l'attacco Per cui mi sono detto Certi attaccanti comunque non ci avrei potuto competere Puntiamo decisi su un attaccante buono e vediamo attorno cosa riusciamo a mettere E infatti poi ho preso Berardi a 78 26% del budget per Berardi Troppo, te lo dico troppo Però fidati che ha un senso Se andiamo a vedere poi quanto sono stati pagati gli attaccanti dopo Da chi aveva tanti crediti Di piazzo di fianco un onesto Chiesa a 22 Quindi 7% del budget abbondante Dopodiché qui sono andato alla compra di tutti i possibili titolari E prendo inaspettatamente un Belotti a 2 Ok c'è Lukaku ma per un po' giocherà anche lui e subentrerà spesso E un Petagna a 3 Sul finire prendo anche Toven a 3 e Caio George a 1 Ricordiamoci che è un Fanta 10 Prima di passare a vedere le altre rose ti consiglio di seguirmi Io sono Michele e ti aiuto col Fanta Calcio Voglio farti fare la migliore stagione possibile al Fanta Per cui seguimi Veniamo alla rosa di Recosta che è arrivato con la maggior parte dei crediti rispetto a tutti in attacco In porta col 3% del budget prende Falcone, Montipora, Dunovic Vediamo la difesa prende Mario Rui, Caio, Baccher, Ebuei, Bijol, Darmian, De Vrij, Kalulù E spende soltanto 28 crediti in difesa Quindi meno del 10% del budget A centrocampo Recosta prende Coopmaners a 23 Luis Alberto 24 E sinceramente se vi pregoniamo i miei Orsolini Strefezza vi sono stati pagati quasi uguali Preferisco i miei a sto prezzo Poi prende Mbula a 2 Costice a 3 Qui inizia il risparmio totale di Recco Foloruscio a 4 Gagliardini a 1 E Link Junior a 1 Odeno a 1 Veniamo all'attacco Recosta che aveva un botto di crediti in attacco Prende Giroux a 56 Poi Reteghi a 35 Scamacca a 71 Ecco, vero è che Scamacca diventerà l'attaccante titolare dell'Atalanta Ad ogni modo io preferisco quasi allo stesso prezzo Mimo Berardi Mi sono stupito del fatto che Ray Coe non abbia preso un top player Perché avrebbe potuto prendersi un top player E metterci di fianco comunque un Giroux se l'avesse voluto E anche forse un Reteghi Ma non è finita Proprio perché ci sono stati non solo Recosta C'era anche Fantatori con Walk Che hanno voluto conservare più crediti alla fine Non prendendosi subito dei top Abbiamo avuto un Sanabe a 12 Che ci può stare Simeone a 4 Ma un Gongi a 25 È molto un Gongi secondo me Però ha fatto bene Recco in quel momento A pagarlo così tanto Come anche Scamacca in quel momento Perché in quel momento Non è che ci fossero più chissà quali scelte Secondo me dovevamo spendere un attimo prima Poi non è una critica Tanto Recco è un mago di Fantacalcio Cioè troverà sicuramente una quadra Passiamo a Federico Viglino Pro Fantacalcio Con un 10% totale in porta Prende Provè del Sepe e consigli Andiamo alla difesa Prende Calabria Carlos Augusto Dappacosta Mazzocchi E fin qua mi piace molto come difesa Acerbizzo Rodriguez Giangisus Spende 57 crediti Quindi il 19% in difesa E secondo me ha fatto una gran bella difesa Per quello che ci ha speso Andiamo a vedere il centrocampo Prende Colpani Che a me piace un sacco Non l'ho rialzato Perché mi ero già fatto quei tre centrocampisti A 16 Vedi come si è alzato il suo prezzo Dopo la doppietta Veliskia 15 Ferguson 17 Ferguson l'ha pagato pochissimo Puoi prendere Sherawi 9 Fagioli 1 Saponara 2 Nandeth 1 Strutman 1 Veniamo all'attacco Lui è riuscito a prendersi Kvarraschelia a 63 E per me l'ha pagato veramente poco Rispetto a tutto Cioè l'ha pagato quel 20-21% Che è la sua quotazione bene o male Anzi forse l'ha pagato leggermente sotto Poi un Lukman a 39 Quindi 13% del budget Zola a 22 Cambiaghi a 19 Luca a 4 E Pedro a 1 Vuoi fare un fantacalcio all'istone gratuito E con dei premi? Beh partecipa al mio Fantacalcio all'istone gratuito Per tutti gli iscritti Trovi il link in descrizione Basta che nelle leghe pubbliche Prendi iscritti Fantagolf Quella col mio logo È un fantacalistone Dove ha gli scambi Sempre aperti tutto l'anno Si possono vincere Al terzo posto Il mio ebook Al secondo Una maglia da calcio E al primo Una maglia da calcio Con tutte le persone Ma se sei ancora più ambizioso Su Fanta Eleven C'è un fantacalcio all'istone A pagamento Con ricchissimi premi Scrive una squadra Costa a 19,90 Ma si possono vincere iMac Bici electric La maglia autografata Di Mbappé Televisori grandissimi Smartwatch Maglia da calcio Completi da calcio Borsoni Tablet Felpe E tutto quello Che vedi qua Entra su Fanta Eleven Passando al link Qui sotto in descrizione Veniamo alla squadra Del Chiuzzo Chiuzzo prende Sommer a 29 Audero a 1 Gennaro a 1 Anche qui 10% del budget Speso in porta In difesa prende Teornandez 32 Di Lorenzo 33 E subito dopo Baschirotto 12 Ha speso tanto Subito Ha fatto una Gran bella difesa Nei primi tre Cioè ci sono dentro Due top E dopo prende Dica 4 Dorgo 1 Lirola 1 Parisi 1 Affi 1 Ti dirò L'unico difetto Che posso trovare A questa difesa È il fatto che Hai già preso tre difensori Molto forti Tanto valeva Spendere quel qualcosina In più Invece che Pena indica Magari ti portavi a casa Un altro difensore Titolare Che ti desse Delle garancie in più Oppure anche Allo stesso prezzo Una Cerbia Anche perché così Puoi switchare Questa difesa Per usare il mod Switchare Intendo da 3 A 4 Comunque sia I giocatori ce li ha Poi anche Parisi Ne giocherà diversi 28% del budget Speso in difesa Centro campo Prende Kamada a 14 Cicandreva a 23 Malinoski a 19 Wea a 7 Tra l'altro mi sono stupito Di un Malinoski Oltre il 6% del budget Credevo che rimanesse Leggiamente giù Wea a 7 Baldanzi a 10 Loftus Cicro a 8 Rafi a 3 Oristagno a 1 Secondo me è un gran bel Centro campo E anche qui ha speso La stessa cifra Che ha speso in difesa Veniamo all'attacco Lui è andato in all in Su Lukaku praticamente Quindi Lukaku preso a 84 28% del budget Poi prende Sanchez a 3 Virgve a 8 Mota a 2 Cancellieri 1 Ken 1 Credo che spesso Chiuso si ritroverà A giocare a 2 punte Anche se non è affatto Poi detto Perché comunque Virgve per un tot Dovrebbe essere titolare Cancellieri dovrebbe avere La titolarità Vediamo Simone Fantavirus Prende Silvestri a 4 Musso a 16 Carne secchi a 10 Tra l'altro Carne secchi È su Starks Starks è l'exchange Dove compre e vendì Token ufficiali Dei giocatori Con tanto di licenza E ci sono due giochi Nel primo gioco Ad ogni prestazione In campionato Starks brucerà Un certo numero di token Per esempio Nell'ultima partita Di Gonzalef Sono stati bruciati 3100 token Meno token ci sono E più token valgono Quindi se saprai Scegliere un buon talento Che faccia belle prestazioni Giornata per giornata Vedrai I suoi numeri token Totali Diminuire Quindi il suo valore Aumentare Col secondo gioco Tu vai a schierare 5 giocatori Per ogni giornata Di campionato E a seconda Delle prestazioni Del giocatore E anche A seconda Della percentuale Che hai schierato Di un giocatore Rispetto a un altro Farai un punteggio Con questo punteggio Cercherai di scalare Le classifiche Settimanali Mensili E di fine stagione Di arrivare Di arrivare a Richissimi premi In palio Entra su Starks Passando il link Qui sotto In descrizione Avrai per te In omaggio 15 euro Al deposito Dei tuoi primi 20 euro Dopodiché Prende Oiono A 1 Casale A 8 Milenkovic A 3 Kirikopoulos 3 Toloi 3 Lukumi 1 Nathan 2 E Gendrey A 1 Ha speso Solo 22 crediti In difesa Circa il 7% Del budget A centrocampo Quando lui era tutt'altro Che chip leader Perché poteva essere Mangiato Sia da Recosta Che da Fantatori Che se ricordo bene Anche da un altro Invece si poteva a casa Un Osimeno A 108 Che comunque Vuol dire 36% Del budget Però di fianco Gli pianta Un Dibala A 61 20% Del budget Secondo me Poco Poco rispetto Ai pezzi Che giravano O comunque Il giusto Dopodiché Prende Caputo A 7 Caprari A 4 Caso A 1 E Isaacsen A 2 Secondo me Gran bella squadra Quella di Simo Passiamo a Fantatori Con Walk of Sport Durante l'asta Omar ha fatto Tutta la squadra Fino ai primi due attaccanti Poi si è inserito Walk Omar ha preso La porta della Juve In toto Per il 12% Del budget Poi va su Biraghi A 9 Dragusin A 4 Faraoni A 8 Beukkema A 7 Zappa 2 Llorente 1 Bise 1 Olm 2 Per un totale Di 34 Crediti spesi 11% Del budget Veniamo al centro Campo Va subito Forte Su Zaccagni Preso a 34 11% Del budget È il suo prezzo Poi va su Listrom 25 Non mi aspettavo Che arrivasse Già così sparato alto Ma giustamente Sono contro Fanta Youtuber Che sono molto Molto informati Quindi oltre L'8% Del budget Frattesi 21 Lazovic 9 Questo l'ha pagato poco Bairami 8 Icone 4 Mirancuk 2 Baef A 1 102 crediti Spesi A centro Campo Circa il 33% Anzi il 34% Preciso Andiamo all'attacco Qui diciamo Che è arrivato Forte in attacco Perché ha speso Poco in difesa Pur prendendo Dei gran giocatori Secondo me Per la cifra spesa Vediamo Come ha ripartito Il budget in attacco Prende Arnautovic A 31 Zapata 38 Poi subentra Walk Che prende Gonzale Fa 38 Deuluffeo A 8 Carson 7 Bella scommessa E Sule A 1 Tutto sommato Un buon attacco Anche qui Diciamo Che mi sarei Aspettato Di vedere Un top Veniamo Babbo Fantacalcio Che prende Ochoa 3 Scorupski A 4 Di Gregorio A 11 Spende in totale Il 6% In porta E secondo me È una bella porta Varia Senza spendere tanto Tra l'altro Di Gregorio Ha già reso Molto bene Ultimamente Veniamo alla difesa Prende Smalling A 17 Belcolpo Scursa 15 Oliveira 10 Alexandro 1 Doiga 9 Spinazzola 6 Marin 7 Pedersen 1 66 credit Spesi in difesa 22% Del budget Centrocampo Felipe Anderson 23 Buono Samarvic 18 Non l'ha neanche pagato tanto In realtà l'ha pagato il suo prezzo Pellegrini 21 Barella 23 Quindi già qui vedi che può giocare anche con 4 centrocampisti Poi prende Elmas 5 Pogba 5 Zambo Anghissa 4 E Moro 1 Eh Moro lo volevo io 100 crediti spesi a centrocampo 33% del budget Andiamo a vedere l'attacco In attacco Prende Vlaovic A 90 Ed è un grandissimo colpo al 30% del budget Vedendo come stavano andando via gli attaccanti Dopodiché va su Kerstovic A 9 E si riempie di attaccanti a 1 Muriel Okafora a 1 Prende Pinamonti a 9 E Chedira a 6 Secondo me Babbo ha un bel attacco Oltre a Vlaovic però deve sperare che gli girino bene le scommesse che ha preso Cioè che Pinamonti ti faccia un campionato migliore rispetto a quello dell'anno scorso Che Kerstovic continui così anche se credo di sì E a vedere cosa farà a Chedira Il Profeta prende la porta del Milan con un totale di 39 crediti 13% del budget In difesa prende Pavarda a 16 Secondo me è un gran bel colpo Poi è chiaro che siamo tutti curiosi di vederlo nella nostra serie A Buongiorno a 7 Danilo a 22 Colasinac 10 Fin qui ti posso dire tutti i difensori da mod Dodò a 8 A Ugello a 3 Il suo baluardo Doriano E poi dopo ha preso Cayodea a 1 Luperto a 1 Luperto a 1 per me è un grande colpo Totale di 68 crediti spesi In difesa quindi circa il 23% del budget Veniamo al centro campo Prende Pulisic a 26 Ottimo De Ketelar 10 Per me l'ha pagato poco Cialanoglu 14 Poi fa Castanos 2 Ricci 2 Messias 3 Boloca a 1 Un suo pallino E Guedonfi a 3 Guedonfi ancora non so come si pronuncia Tortale 20% speso al centro campo Veniamo all'attacco Anche Marco aveva tanti crediti E il Prof va a prendere le AO 84 E gli accoppia un Turam preso a 38 Che tanta gente non valuta tantissimo Ma stiamo parlando dell'attaccante titolare dell'Inter Poi gli mette Beltran a 7 A me questo non convince tanto proprio in generale Luvumbo 1 Banda 1 Brenner 1 Girandoli bene dovrebbe riuscire a giocare anche con i 3 attaccanti Poi bisogna vedere partita per partita Penso che diverse volte vada a fare un 4-4-2 Marco Anche se le Auto Ram la titolarità gliela danno Bisogna vedere chi girarci di fianco a seconda delle partite Perché poi non parliamo di questi bomber eccezionali Magari un Beltran dopo la partita di Coppa Dove aveva giocato un Zola potrebbe essere un titolare interessante Veniamo al Mister del Fanta Chris ha preso Milinkovic-Savic 13 Terracciano 6 Kristiansen 2 Un totale di 21 crediti 7% del budget in porta La porta che ha fatto a me piace Perché si è coperto e ha anche speso poco E sono comunque portieri che possono dare veramente Anche spesse volte l'imbattibilità O comunque sia portieri ottimi anche per il mod Veniamo alla difesa Prende Bastoni 14 Bremer 20 Scalvini 10 Kristiansen 8 Marusic a 1 Bradaric 2 Voivoda 2 Ruggeri 1 Ha speso circa il 19% del budget in difesa E si è fatto una difesa che va benissimo per il mod E ogni tanto potrebbe dargli qualche bonus Veniamo al centrocampo Chuquev 18 Ha pagato un pochino troppo rispetto a quanto viene valutato adesso secondo me Poi ha preso Rabiot 17 Questo invece l'ha pagato meno Quindi compensa le due cose Awar 11 Mkhitaryan 5 Illich a 2 Per me è veramente fantastico Infatti l'avevo chiamato io A 2 è ottimo Matteo Zeric a 1 Kulibaly L a 1 E Arthur a 1 Dentrocampo che ti può dare possibilità di bonus Con Rabiot e sperando che Chuquev esploda Poi c'è sempre la scommessa Awar E comunque hai titolarità Diciamo che non è tanto da bonus Ma la titolarità te la dà quasi sicuramente Forse è stato imbastito per un 4-3-3 Veniamo all'attacco Chris è andato subito forte su Lautaro 116 crediti spesi per lui Poco sotto il 40% del budget Dopodiché gli accoppia Lauriente a 25 Poi Anquist a 7 Milik a 9 Raspadori 7 Mulatieri 1 Bell'attacco Anche qui deve giostrarseli bene Per poterne schierare 3 Ma a 10 Non è affatto facile Veniamo alla squadra di Camus Special Prende la porta della Roma Più Cerofolini Per un totale di 26 crediti spesi Quindi circa 9% del budget Invece in difesa Prende Tomori a 15 Romagnoli 14 Mancini 7 Rachmani 17 Peret 2 Questi 5 sono tutti da mod Pieni Cambiaso a 8 Dossena a 1 E Gatti a 1 65 crediti spesi Quindi circa il 22% del budget Centrocampo ROI 7 Se continuerà a giocare fuori ruolo Ma non credo proprio Comunque se sarà il rigorista De Frosino Non è un affare Poi prende Lovic a 15 Molto buono Politano 9 Ciori a 13 Questo è ottimo A 13 è veramente ottimo Per me doveva andare via Intorno al 20 Poi prende Doge a 8 Qui c'è da vedere se terrà la titolarità Però Se la mantiene Ha speso veramente poco Radonici 4 Madragora 1 Martegani 1 58 crediti spesi A centrocampo Quindi circa Il 19% del budget Veniamo all'attacco Carmi si porta a casa Immobile a 92 30% del budget Quasi 31 Poi prende Dia a 48 16% del budget Va poi con Bonazzoli A 4 Castellanos 2 Azmoon 1 E Colombo a 4 Diciamo che lui in attacco I tre attaccanti di schiera Queste erano le rose del fantacalcio Fanta youtubers Mi raccomando Vai a seguire tutti questi ottimi creator Sul fantacalcio Che hanno fatto l'asta con me Perché se lo meritano Sono bravissimi E se ami il fantacalcio Più pareri senti Meglio è Lasciami un commento Per dirmi qual è Secondo te la squadra migliore Dimmi anche cos'ho sbagliato Secondo te Se ti è piaciuto questo video Lascia un bel like Qui ti saperanno degli altri video Ciao E buon asta del fanta a tutti